Imparare a dire grazie per essere felici è l'elemento con cui ci colleghiamo alle altre puntate e questo è quello che stiamo cercando di fare in questo periodo, dire grazie. Per le grandi cose è scontato, ma soprattutto per le piccole cose come abbiamo detto nella puntata precedente e oggi volevo continuare a farvi ascoltare un cuore pieno di gratitudine come quello di Jean-Pierre Dubois-Dumet, questo laico papà di famiglia francese che ha fondato Casa Editrici e che è un uomo dedito alla preghiera, proprio perché se io dovessi dirvi adesso vi faccio ascoltare una preghiera di ringraziamento di una santa, di un santo piuttosto che di un monaco, di un sacerdote, di un vescovo, di un papa, è quasi scontato per voi, perché dice voi lo dovete fare, ma no non è così, ogni uomo, ogni creatura deve saper dire la propria lode a Dio e agli uomini, non so se è una eresia ma non pensa, io credo che anche gli animali hanno il loro linguaggio per poter ringraziare il creatore, perché le creature sono piene della gratuità di Dio, anche i fiori, i pesci, il creato e noi uomini che abbiamo il dono della parola e abbiamo il cuore, un cuore e una intelligenza dovremmo essere veramente, grati perché felici e felici perché grati, ma torniamo a Jean-Pierre Dubois-Diumet, grazie per il tuo amore senza confini, grazie per il pane dell'Eucaristia, grazie per la pace che viene da te, grazie per la libertà che tu ci dai, con i miei fratelli io proclamo la tua lode, per la nostra vita che è nelle tue mani e per le nostre anime che ti sono affidate, per i favori di cui tu ci inondi e che non sempre sappiamo riconoscere, Dio buono e misericordioso, che il tuo nome sia benedetto sempre. Sentite che vibrazioni di un cuore innamorato di Dio e mi ha colpito molto questo grazie per il pane dell'Eucaristia, cioè per la presenza viva e vera di Cristo in mezzo a noi. Chissà quante volte ci accostiamo all'Eucaristia, celebriamo la Santa Messa e quante volte sentiamo dentro il nostro cuore il desiderio di dire grazie Signore per questo dono e per la tua presenza, certamente tanti di noi lo fanno, ma tanti non lo fanno, molte volte ci avviciniamo a questo grande mistero senza dire grazie, tenendo presente che la parola Eucaristia vuol dire rendimento di grazie, ed è bello questo perché Gesù che ci lascia, che per restare con noi si fa pane e si fa vino e quel pane e quel vino diventano il suo corpo, diventano il suo sangue, la sua presenza diventa una lode, un ringraziamento. Il sacramento dell'Eucaristia, la fonte e il culmine di tutta la nostra fede, è niente poco di meno che una gratitudine, certamente io dico anche di Dio verso l'uomo che lo loda e che lo ama e che lo rende felice e di Dio verso l'uomo che si fa felice per lui, ma anche dell'uomo verso Dio che per noi, che per amore ci ha educati a dire grazie e che ci ama senza confini. Ci vediamo domani, Pari Pio TV, Dritto al Cuore. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS